e benvenuti sul Call of Duty Black Ops 3 ragazzi quest'oggi faremo una bella missione c'è un bel deathmatch squadra dai! vediamo un po' ragazzi e col Monofur si può dire che è un'arma buona ma secondo me non è che è un'arma buona è un'arma di merda bisogna essere forti ad usare il Monofur la distanza ravvicinata ce l'ha comunque quindi non è che posso dirvi chi ha qualcos'altro però eh raga ma infatti guardate pecca un po' il Monofur questa è l'unica pecca del Monofur ragazzi non ho voluto farlo eh perfetto due coglioni sopra perfetto raga l'ho mutato in modo che se qualcuno ci viene addosso non ci rompe le scatole in modo che cominciano a dire ah sei un youtuber poi vedono che noi siamo youtuber e poi vedono che volevi occhio qui oh doppia doppia ragazzi alziamo le mani per salito 97 e te pareva va raga forte eh ragazzi vengo a farlo apposta ragazzi siamo tutti quanti in attesa per Call of Duty World War 2 ve lo dico io sono felicissimo oh cazzo pensavo che eh però ragazzi siamo sono difficili ma comunque ragazzi una cosa che vi vorrei dire penso proprio che è una brutta notizia quello che vi dirò ma penso proprio che cancellerò Call of Duty Modern Warfare Remastered lo devo fare per forza raga perché ho avuto un attimo un problema di registrazione anzi ho di spazio sulla console e quello che vi posso dire ragazzi è quello che ha avuto un piccolo problema però ragazzi sto facendo le doppie e già mi va bene così però non camperate quanto odio la gente che camperà non è che camperà non è soltanto che bisogna vedersi ragazzi tutto qui ragazzi ma in arrivo di Crash Bandicoot mamma mia quando arriverà Crash Bandicoot dobbiamo prepararci ragazzi oh mamma mia le sclerate che faremo su Crash sono diverse dagli altri e vabbè non fa niente almeno aiuto a queste qua guys let's go cammino di cosi di sport madonna ah no usata la granata forte e raga non fa niente e vabbè non ho nient'altro da aggiungere ma comunque oggi ero in attesa di fare qualcosa e mi ha sparato per bene questo ah che palle dai raga muoviamoci quindi facciamo le cose per bene pensavo quello che aveva usato lo schianto gravitazionale invece no volevi tu cazzo stanno ok vai e mi hanno ucciso no raga devo usare per forza il fire non va bene così scendi e ricominciano alla base ragazzi sto usando per forza il monofur però stiamo perdendo ma raga se tengo potenziato tutto bene il monofur credo che così va benissimo occhio qua ehi non camperare tu vieni qua perfetto oh headshot pure ragazzi attenzione guys please help eh raga vedete che il monofur perde troppo tempo con la ricarica everybody freeze affangulo va oddio oh quello ha fatto una doppia con quell'arma di merda guys let's go behind the spoon volevi dai 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 ragazzi dai 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 attention please attention no e te pareva questi cazzo di cosi ah no è la granata sentex quella la che ho usato io prima ragazzi dai dai non ho nient'altro da di e qui camper dai 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 oddio no 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 eh te pareva prevedo dai dai un'abbandonata la partita perfetto via 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 ah cribbio perché io ragazzi il problema dei deathmatch è che quando morite mi fanno spawnare in posti stupidi volevi volevi no 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 eh fa boia raga non ho nessuna chance che cazzo di paura mi ha fatto prendere sto coglione meglio la prossima ragazzi mi fa ridere dai dai raga devo usare il paio wow non l'ho preso il ripper i ripper ragazzi sapete quando li dobbiamo usare a massimo quando oh cristo ti voglio tanto bene raga let's go dai 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 via 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 oh potata potata junior e che palle questo io sono bari ed piacere di conoscermi coglione l'erba si taglia le 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 lezzo dai ragazzi dai 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 via 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 no 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 perfetto volevi oddio quello ha fatto robinuzi dietro di me ahhh ma che palle cazzo oh muoviti cara mio ha fatto pure una doppia ma che palle state perdendo cdp forza non stiamo facendo schifo sorpresa eeeh babbo natale che schifo ok go 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 robot a terra nooo 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 eh è andata male raga e vabbè raga è andata benissimo non mi dica che sono morto io come un coglione per favore oh meno male cioè ma guardate qua tutti ad un certo punto si sono messi a camberà vabbè raga questo video finisce qua lasciatemi un mi piace un commento iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti qua da Saddite97 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti